Globalitarismo quindi, ma poi anche inglobalizzazione. La globalizzazione è un processo onni-inclusivo che a ritmo sempre più celere finisce per inglobare tutti i popoli del pianeta, tutte le nazioni non ancora allineate col modello unico omologato e omologante, che produce lo sradicamento dei popoli, l'omologazione degli stili di vita e soprattutto di fatto l'americanizzazione integrale dell'immaginario e del reale. Quindi inglobalizzazione. Ma poi anche la globalizzazione è una anglobalizzazione, nella misura in cui impone a tutti i popoli del pianeta la lingua inglese, peraltro non quella di Shakespeare e di Wilde, bensì l'inglese operazionale dei mercati, l'inglese che riduce la lingua da scrigno in cui è custodita la cultura dei popoli a semplice medium comunicativo per trasmettere informazioni di scambio, acquisto e le funzioni variabili. Il mercato essenzialmente. Quindi il paradosso di una cultura unica globale sta proprio in questo, in fondo, che la cultura per esistere necessita che ve ne siano sempre almeno due in dialogo fra loro. Ecco perché parlare di cultura unica globale è una contraddizione adiecto, direbbero i logici, perché appunto la cultura esiste nel dialogo fra le culture, ma non può esservi dialogo per la contraddizione che il non consente, ovvero la sottocultura del consumo americano centrico. Terzo punto fondamentale, anzi quarto punto fondamentale, la globalizzazione si ridispone anche come globalizzazione, ossia come pauperizzazione planetaria di masse sempre crescenti. Quelle che ovviamente i cantori di tirambici della mondializzazione del libero mercato cantano come le chance della mondializzazione, con annessi viaggi low cost possibili per i giovani, con il mito dello start-upper globale che fa il suo viaggio a Nuova York e torna a raccontare ai suoi nazionali quanto i suoi connazionali quanto sono sfigati perché sono rimasti solo a Milano, a Torino o a Cremona, esattamente si basa su questo modello narrativo che finisce per produrre altro che le chance della mondializzazione, la sciagura della mondializzazione come competitivismo globale che costringe quello sparuto numero di lavoratori ancora tutelati da diritti e da conquiste, penso ai lavoratori europei nella fattispecie, a dover competere con chi dall'altra parte del mondo senza alcuna tutela salariale, senza alcuna tutela sindacale è costretto appunto a lavorare H24 e quindi naturalmente come ben potete capire, non per essere complottista ma evidentemente non saranno i diritti europei a traslarsi verso l'oriente ma saranno appunto le condizioni orientali a traslarsi generosamente in occidente e quindi a produrre ciò che già sta producendosi cioè la contrazione lineare dei diritti per meglio essere competitivi su scala globale. Ecco perché la mondializzazione sta producendo ogni giorno di più in maniera ogni giorno crescente quella polarizzazione dicotomica della società che vede in alto un'elite finanziaria sradicata, nemica del lavoro, della produzione, dei ceti medi nazionali e delle classi lavoratrici un'aristocrazia finanziaria apolide che trova in alcune figure sempre magnificate come filantrope dal giornalismo aziendale i filantropi delle ONG, i filantropi che foraggiano l'immigrazione di masse, i filantropi che producono le rivoluzioni colorate di destabilizzazione dei governi legittimi e così via in alto e in basso in posizione subalterna quello che io chiamo il precariato cioè masse di sradicati, di sconfitti della globalizzazione costituenti essenzialmente i vecchi poli della borghesia e del proletariato oggi precipitati verso il basso in una condizione precaria non solo sul piano lavorativo, il contratto intermittente precario o il lavorare per niente magnificato dall'Expo il volontariato come è stato definito ma poi caratterizzati anche in pari tempo essenzialmente dalla forma che io chiamo della flessibilità esistenziale, la distruzione di tutti i punti fermi della vita classica borghese dalla famiglia all'etica pubblica, dalla scuola alla sanità pubblica fino ad arrivare naturalmente agli stati sovrani nazionali ecco il punto fondamentale, lo stato sovrano nazionale che non è lo stato imperialista ma che anzi lo stato che può dar luogo a una relazione fra stati sovrani nazionali pacifici e solidali è il vero nemico dei globalizzatori ossia dei signori apolidi e sans frontières della finanza globale, i quali hanno giustamente dal loro punto di vista individuato negli stati sovrani nazionali il principale nemico, giacché gli stati sovrani nazionali oggi lungi dall'essere gli insidiosi ritorni del fascismo, del nazismo o quant'altro sono gli ultimi fortilizzi dei beni comuni e delle democrazie ogni qualvolta noi sentiamo oggi parlare di cessione di sovranità o il che è lo stesso molte volte di superamento degli stati nazionali dobbiamo ritradurre immancabilmente questo algoritmo nella formula riduzione della democrazia quando non fine stessa della democrazia non esiste ad oggi per quel che ne so esperienza nemmeno una che abbia portato nel superamento dello stato sovrano nazionale a vantaggio di istituzioni maggiormente democratiche anzi ogni qualvolta si sia andati al di là dello stato sovrano nazionale si sono perse quote di democrazia, quote di sovranità nazionale